... Ragazzi, ma lo diciamo che abbiamo tirato fuori il disagio sociale delle persone? Ma perché non le vogliamo dire queste cose? Ma perché ci stiamo mascherando dietro la mafia e dietro il blocco e dietro tutte queste merate? Noi ci siamo fermati perché da quattro anni facciamo proposte ai vari assessori regionali, provinciali, ai ministri. Personalmente ho incontrato tre assessori regionali e tre ministri. Ho dato vagoni di piattaforma, sanno quello che abbiamo chiesto, non hanno fatto nulla. Noi siamo stati costretti a scendere in campo per legittima difesa e questo è il motivo che ci ha spinto a scendere in piazza. Non ottenendo nulla con le contrattazioni, con i tavoli tecnici, ce le hanno menate in tutti i modi. Basta! Ci aspettiamo delle risposte concrete che speriamo arrivino, altrimenti ci saranno le reazioni che poi vedremo magari in giornata. Fino a che punto siete risposti ad arrivare? Alla morte. Cosa è che chiedete? Chiediamo i diritti dei siciliani e quello che ci spetta. Basta infangarci da Bressanone fino a Reggio Calabria. Basta infangamento dei siciliani. Ma vogliamo che di là che in tutta Italia sa perché? Perché finalmente mandiamo a casa una classe dirigente che non si è degna di rappresentarci. Ci organizzeremo. Non possiamo morire dopo aver fatto una manifestazione del genere e tornare indietro. Mi sembra che non si può tornare indietro. O ci sono i risultati, ma non solo per noi, ma per il popolo siciliano. Cosa.